si impenna bene il Fantic che figata dai puoi fare di meglio oddio cosa è successo qua ma io voglio fare altre coi penne passaggio di impennata ti aumilio oh cazzo mi viene addosso dai però non è male impennare se la cava bene cioè io personalmente preferisco le strade piene di curve a lui piacciono questi trittoni da fichetta che figata che è ma cos'è un'autostrada in impennata sto facendo dici tanto facciamo lo stradone così lo facciamo tutti in impennata poi non riesci a impennare neanche dal palo all'altro bravo fichetta brava adesso lo sfotto però è brava a impennare vedi no dai ma non ho appena detto che eri bravo quando gli vengono bene gli vengono dei pennoni tipo 2-3 km oggi non è giornata ma ma do che sa o che fa quando è che impari a impennare per bene ahi dicevo che puzza che c'è 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 dei maialini ci sei te ma vaffa il culo caprette ciao alle caprette facevano una puzza ciao bimba il 2 e il 4 tempi che sovrastano indiscussi facciamo un bel casino eh l'ho scazzato marcia ma le impennate lente le sai fare l'altra sera io e Maso ieri sera che te l'ho detto siamo andati a impennare un sacco ci stava rimpennare era in penna ocaילו una mitragliatrice un'attentato che figata In centro all'imitatore Andiamo a comandare No qualcosa che faccia rima con comandare In centro Vabbè in impennata Non si può dire nient'altro In centro in impennata Andiamo a comandare Cosa è successo? Va via Ciao Vai via Ciao bello Frena Ha cambiato casa che va a sinistra Di solito ne va a destra Ciao coglione Quanto le amo io Le amicizie così tipo Le donne che si salutano come Ciao carissima come va Tipo tutte ste robe qua E noi Ciao coglione stupido Gay frog Vabbè a parte questo breve rapsus Vi dico che siamo giunti alla fine Di questo video Vi ringrazio per la visione Ciao a tutti amici Non ho voglia di andare a casa Mi sto divertendo un sacco Che figata A presto Ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti